Presentata questa mattina presso il centro commerciale L'Arca di Spoltore, la nuova gestione eventi del parco Lenaia di Pescara a cura del gruppo Blue Parrot Town presieduto da Siro Di Meco, che ha spiegato come è nato questo progetto per rilanciare lo storico parco del centro sportivo di Viale Riviera Nord, che in passato ha ospitato il Pescara Jets e grandi concerti di caratura nazionale ed internazionale. Ci siamo trovati bene con la società Petruziana, che è la società che gestisce adesso il parco Lenaia di dopo le varie vicissitudini che conoscete un po' tutti quanti, ci siamo incontrati così un po' per caso e abbiamo iniziato questo nuovo corso perché come sapete tutti, Lenaia di negli anni passati era un contenitore molto ambito, dove ci sono passati artisti del calibro di Vasco Rossi, De Gregori, ci si organizzava il jazz Labruzzo, jazz e compagnia cantante, quindi è un contenitore molto molto conosciuto dai pescaresi e quindi è molto identitario per la città di Pescara e abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura lì proprio perché crediamo in questa struttura delle naidi, poi siamo pescaresi e quindi crediamo nella nostra città e quindi abbiamo deciso anche di investire con artisti del calibro internazionale e nazionale. Avremo artisti del calibro di... abbiamo deciso anche di un target variegato proprio perché le naidi si affaccia sul mare, quindi vogliamo ragazzi, abbiamo deciso anche di fare spettacoli teatrali faremo degli artisti del calibro di musica tecno come Sven Vatt, un artista internazionale che suona in tutto il mondo un produttore sta sulla Crestellondo ormai da tanti anni, fra due settimane avremo Deborah De Luca, avremo Wade che è un artista di oggi, uno dei migliori DJ produttori al mondo, quindi stiamo investendo nella città di Pescara perché noi crediamo in Pescara e siamo veramente molto soddisfatti.